Sulla regione continuano le condizioni di instabilità atmosferica. Per la giornata di sabato avremo al mattino un cielo da nuvoloso accoperto con una possibilità di qualche debole pioggia sparsa e un nuovo peggioramento invece al pomeriggio per l'arrivo di un fronte dal nord Europa. Ci attendiamo pertanto nelle ore pomeridiane, piogge anche abbondanti e anche di temporali che interesseranno prima la zona montana e successivamente la pianura e la costa. Per quanto riguarda la costa ci sarà ancora un po' di vento da sud ovest di Beccio durante la giornata. Domenica di primo mattino pioggia residui e temporali sempre sulle zone orientali, poi deciso miglioramento, avremo probabilmente un cielo da poco nuvoloso a variabile per gran parte della mattinata. Nel pomeriggio però ci aspettiamo nuovamente variabilità e la possibilità di rovesi e temporali sparsi. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana ancora condizioni di lieve instabilità con variabilità e la possibilità di locali rovesci e temporali al pomeriggio. Le temperature saranno in lieve calo appena al di sotto dei valori medi del periodo. Sulla costa domenica tornerà a soffiare un po' di bora. Dall'Osservatorio Meteorologico Regionale buon fine settimana a tutti.